Fa discutere soprattutto al sud la ripartizione del Recovery Fund. Stando a quando circolato nei giorni scorsi, il governo sarebbe orientato a distribuire fondi sulla base della popolazione, stanziando così il 66% dei 209 miliardi previsti per l'Italia alle regioni del centro-nord e la restante quota del 34% al centro-sud. Il principio che guida questa scelta sarebbe esclusivamente demografico, che penalizzerebbe di molto le regioni meridionali, intanto da far parlare ai governatori delle regioni del sud di vero e proprio furto stimato in circa 40 milioni di euro. Il governo non può pensare di spendere questi soldi senza consultarci, sbotta il governatore Nello Musumeci. Riteniamo fortemente penalizzante il criterio della popolazione del 34%, non si può non tener conto della disarmante diseguaglianza sociale tra le diverse parti del paese, aggiunge Musumeci. La linea comune che in questi giorni vede schierate le regioni del sud al di là degli schieramenti politici è di valorizzare le zone che si affacciano sul Mediterraneo e di rafforzarne il ruolo di perno nei rapporti commerciali con Asia e Africa. La Sicilia è la ragione con il più alto tasso di poverte in Italia, ha aggiunto il governatore. C'è carenza di infrastrutture, il territorio non è competitivo ed è necessaria maggiore attenzione del governo sulle aree depresse. I governatori del sud hanno già inviato al premier una lettera in cui domandano un incontro, ma il grande dubbio rimangono i progetti e le opere che il governo avrebbe in mente di approvare. Si dice che il governo abbia già un elenco di opere strategiche da realizzare, se così fosse sarebbe gravissimo. Non siamo mai stati interpellati, chiude il governatore della regione siciliana.